Sean, ti sei ricordato che oggi devi uscire presto dal lavoro? Dennis ci ha promesso che ci avrebbe presentato la sua Cristina, ha detto Lara quando ha chiamato il marito all'ora di pranzo. No, non si è dimenticato che c'è una cena di gala. Dovremmo prendere qualcosa per strada? Chiese Sean. Puoi prendere qualcosa di dolce per il tè, e per cena mangeremo pollo e verdure come piace a Denise. Voglio preparare altri pancake prima di stasera. Ora, disse Lara, e riagganciò il telefono. Neanche due ore dopo, Lara chiamò di nuovo il numero del marito. Devi uscire dal lavoro abbastanza presto per tornare a casa e cambiarti. Andiamo al ristorante. Lei rispose. Che tono è questo? E il pollo e le frittelle? Si chiese il marito. Dennis chiamò e disse che la sua Cristina desiderava incontrarsi al ristorante. Lui non la rifiutò. Forse è la cosa giusta da fare, chiese lei. Ok, non mi piace più. Questa Cristina si è già seduta sul collo di nostro figlio con le gambe a penzoloni. Vorrei poterla vedere prima. A proposito, l'hai vista almeno una volta? Chi è? Dai, è solo una ragazza. Figlia di una famiglia per bene. Come si chiamava suo padre? B.Tren. Credo sia il suo cognome. Possiede un'azienda e sua madre è in una posizione di autorità. Questo genere di cose. Allora è così. Lara, non hai la sensazione che io e te abbiamo già vissuto qualcosa di simile? Chiese Sean. Andiamo. Me ne sono pentito un milione di volte. Un ristorante è un ristorante. Va bene, basta con l'assillo. Ti ho preparato il vestito. Ti stiamo aspettando. Disse Lara e riattaccò. Ma Sean ormai aveva perso la calma. Era chiaramente ferito da questa cosa apparentemente insignificante. Tornò a casa presto, ma di pessimo umore. Forse non c'è bisogno di questa presentazione. Ho la sensazione che non funzionerà tra Dennis e questa ragazza. Perché non ci vai da solo? Io mangio pollo e frittelle per dessert. Non gli importava quello che diceva. Dennis si arrabbierà con te. Smettila di fare i capricci. Ok, il taxi arriverà presto. Preparati. La moglie ha insistito. Sean indossò l'abito da sera. La moglie gli fece il nodo alla cravatta e lui rimase per un attimo davanti allo specchio, osservando la sua immagine riflessa. Sembrava lo stesso ambizioso funzionario. Pensi che il vestito mi stia così bene da farmi venire voglia di tornare in municipio? Forse dovrei fare una prova, mi ha chiesto. Tesoro, se è quello che vuoi, perché no? Ma non credo che ti accetterebbero con la fedina penale sporca. Ma non è stata colpa tua. Forse capiranno. Sì, sì, sì. Non è stata colpa mia, ma tua. Ma ti ho perdonato molto tempo fa. Le cose che si fanno per amore. Stavo scherzando sul municipio. Non lo voglio per niente. Andiamo, disse Sean, e si avviarono al ristorante. Christina e Dennis arrivarono un po' in ritardo. La ragazza con le labbra imbronciate li salutò scherzosamente e si sedette di fronte a loro. Sean rimase in silenzio in risposta. Dennis cercò di alleggerire l'atmosfera. Ma Christina gli tenne testa. E per il nostro matrimonio papà aveva promesso di regalarci una macchina nuova. Una che Dennis adorerà. Uno di questi giorni lo porterà in un autosalone. È lì che la sceglieranno. Avremo anche delle auto da abbinare, disse orgogliosa. I genitori dello sposo non dicevano molto. Christina dominò la serata. Dennis ha grandi ambizioni. Ha bisogno di sostegno. Dopo il matrimonio mio padre ha promesso di parlare con i suoi amici influenti delle sue prospettive. È ancora un semplice manager. È ora di crescere, dichiarò Christina. Sean intervenne finalmente nella conversazione. Christina, cosa vedi in questo semplice manager? Per Christina, la domanda era piuttosto inaspettata. Ma ci siamo incontrati per caso e le cose hanno cominciato a funzionare. Poi ho notato che Dennis è molto galante, sa ascoltare, è solidale. E ha un grande senso dell'umorismo. Qual è il rapporto con sua moglie? Forse può raccontarsi qualcosa del suo passato. Saremo molto interessati, disse Christina. No, non vorrei andare fuori tema. Mi sembra che lei è nostro figlio, non siate sinceri. Quindi vi consiglio di non affrettare il matrimonio, disse Sean. Sua moglie lo spinse subito al fianco sotto il tavolo. Lui lo ignorò. Dennis, che era stato preoccupato tutto il giorno per la serata, era già rosso fino alla punta delle orecchie per la rabbia ed era pronto a colpire il padre con un pugno. La madre se ne accorse e cercò di sdrammatizzare la situazione. Sean, per ce lo fai? Forse hanno dei sentimenti. Dovrebbero poter desidere da soli. Christina, non fare caso a Sean, oggi è solo stanco. Ha detto. Comunque papà, ne hai avuto abbastanza. Ho sopportato tutto questo per anni. Sono un'adulta ora. Ho 24 anni. Posso decidere chi sposare. Se non ti piace, puoi lasciarci in pace. Ce ne faremo una ragione, disse Dennis. No, con questa ragazza puoi avere qualcosa con cui difficilmente potrai sopravvivere agli errori. Tua madre sa come finiscono queste storie, quando le figlie dei padri ricchi si innamorano dei figli della gente comune. Ho finito. Signorina, puoi andare, comandò Sean. Christina impallidì e arrossì, ma alla fine prese la sua pochette lucida e battendo i tacchi lasciò il ristorante. Dennis stava per seguirla, ma quando vide lo sguardo minaccioso del padre, rimase al suo posto. Dennis, figlio mio, ti auguro il meglio. C'è qualcosa di sospetto qui. Credimi, conosco persone, soprattutto persone come Wurstein e simili. Sean disse per rassicurare il figlio. Come fai a saperlo se hai fatto il giardiniere per tutta la vita? Non è un problema. Ti stanno solo facendo un regalo per aiutarti a fare carriera. Qualcuno deve farlo se non i tuoi genitori. Tu non fai nulla per me e non lo permetti agli altri. Dennis si offese. Figlio, ti sbagli. Non è come dici tu. Tuo padre non ha fatto il giardiniere per tutta la vita. È stata la sua ultima scelta. E nel suo passato ha avuto a che fare con ogni sorta di persone ricche. Devi ricordare che ti ha cresciuto come tuo padre. Ti vuole bene come se fossi suo. Dillo e basta, Sean, implorò Lara. La cena finì lì. I tre tornarono a casa di pessimo umore. Dennis era andato in camera sua e per protesta non avrebbe parlato con i genitori per un paio di giorni. In camera da letto stavano discutendo di un'altra questione. Forse era arrivato il momento di dire la verità. Sean chiese. Pensi che capirà. Forse dovrebbe aspettare di avere almeno 30 anni. Per allora avrà visto molte cose nella sua vita. Sarà più facile capire noi. Mia moglie ha obiettato. Se lo dici tu. Ma sono contento di averlo liberato da quella donna oggi. Incontrerà una ragazza per bene. Non l'ho cresciuto come un vero uomo. Disse Sean con orgoglio mentre si addormentava. Passarono sei mesi. Di nuovo una telefonata dalla moglie. Alle dodici Danny promise di portare a casa una nuova ragazza. Dice che Alicia ha accettato di venire a casa nostra. Non ha chiesto nessun ristorante. Spero che questa volta non caccerai tua cognata. Disse Lara. E cosa sappiamo di questa ragazza? L'hai mai vista di persona? Chiese il marito. Ho visto solo una foto. Una bella ragazza con un bel sorriso. Lavora come infermiera in una clinica della città. Sua madre è un insegnante. Suo padre un operaio. Secondo Dennis. Quindi sarete puntuali? Chiese la moglie. Cosa c'è sul tavolo? Chiese il marito. Pollo e verdure. E frittelle con vari ripieni. E tu porti in tavola una torta? Disse Lara e stava per chiudere la conversazione. Ma poi Sean fece una modifica. Di a Dennis di scegliere un ristorante. Ci incontreremo al ristorante. Sean perché lo faresti? Non capiresti. Proprio quando la moglie iniziò a lamentarsi, Sean la interruppe. È meglio così. Sento che questa volta mio figlio ha scelto una ragazza decente. E tu mettiti il tuo vestito migliore e vai a truccarti. Così per la sera sarai come ti ho visto al bar 15 anni fa. Sean, avevi promesso di non ricordarmi il mio passato. Lara mise il broncio. Sto solo scherzando. Anzi, l'ho proprio dimenticato. L'amore è una cosa che ti fa dimenticare le cose, disse lui, abbandonandosi a ricordi lontani. La conversazione in famiglia si concluse così. Sia al padre che alla madre piaceva la nuova ragazza di Dennis. In un impeto di gioia i genitori li aiutarono a scegliere la data del matrimonio. Decidono di celebrarlo alla fine del mese. E poi i giovani partono per un via ghiodinose a spese dei genitori. E il suocero e la suocera, felissi, andranno in paese dai parenti. Il matrimonio si è svolto nel rispetto delle migliori tradizioni e delle tendenze moderne. Gli ospiti hanno elogiato il padre dello sposo per la sua educazione esemplare. E la madre è stata ringraziata. Lara ammirò la giovane nuora e in cuor suo promise a se stessa che l'avrebbe accettata come una figlia. E non si sbagliava. Prima di partire per il viaggio di nozze, la giovane coppia fece visita ai genitori di lei. Vedendo Dennis sulla soglia di casa, Sean fece subito una faccia minacciosa. Poi colpì bruscamente Dennis allo stomaco con il dorso della mano e disse con rabbia. Ciccio, non sei ancora sposato e hai già la pancia. Alice, basta. Non dargli più da mangiare o diventerà un criceto. Si sdraierà sul divano e tu gli porterai il cibo. Vuoi un uomo così? Papà, basta così. Hai avuto a che fare con me per tutta la vita. Dennis era indignato. E tu, se ti lasci andare, se Dio non volesse saresti in prigione. E tutto stava per accadere. Ma ti ricordi come litigavamo quando la sera volevi scappare? I miei pugni fanno ancora male e il mio cuore fa male perché mi hai costretto a farti questo, disse Sean. Dennis fece finta di non ricordare nulla di tutto ciò. Ma ricorda tutto perfettamente. Ricordo il giorno in cui sua madre lo portò allo zoo e poi gli comprò un elicottero radiocomandato e poi a casa gli disse che avrebbe avuto un nuovo papà. No, io ho il mio papà. Il mio papà Alexander. Non ho bisogno di altri, disse Dennis sbattendo la porta e andando in camera sua. La madre ascoltò le sue parole. Poi andò dal suo uomo e gli disse che suo figlio non era pronto ad accettarlo. Il che significava che era meglio che si separassero. Ma il suo uomo l'ha sorpresa ancora una volta. No, non ci lasceremo. Aspetteremo che suo figlio maturi abbastanza da accettarmi. Lascia che ci vogliano anni. Ti ho amato per così tanti anni che mi sono abituato ad amarti a distanza. Ti ho amato durante i lunghi anni di prigione. E adesso? Ci vedremo in segreto. Non influirà sul nostro rapporto. L'attesa si trascinò per quattro lunghi anni. Durante questo periodo, Sean veniva costantemente due volte alla settimana. Portava la spesa. Dava a Dennis i soldi per le spese. Gli parlava della sua difficile vita da adolescente. Aiutava in casa e poi tornava a casa. Ma dopo un po' Dennis cambiò radicalmente, diventando scortese con la madre. Aveva nuovi amici di cui non voleva parlare alla madre. Cominciò a uscire di casa la sera e a tornare ben oltre la mezzanotte. Quando la madre cercava di fermarlo, lui la respingeva e faceva i capricci. Tutto questo durò fino a quando un giorno arrivò a casa un poliziotto del quartiere. Disse che era stato fermato un gruppo di adolescenti che avevano commesso una rapina in un negozio notturno. E questi ragazzi si rivelarono essere amici di Dennis. Dennis negò di non essere tra loro. L'anziano poliziotto lo fissò e poi gli chiese di ricordare tutti gli eventi di quella notte. Gli lasciò il suo biglietto da visita e gli chiese di contattarlo se avesse ricordato qualcosa. Questo incidente spaventò molto sua madre. Lo stesso giorno Lara informò Sean che suo figlio era completamente impazzito e Sean si trasferì da loro senza l'approvazione di Dennis. Un paio di settimane dopo fecero richiesta di registrazione del matrimonio. E un mese dopo celebrarono un modesto matrimonio con gli amici e i parenti più stretti. Da quel giorno Sean ha preso in mano l'educazione di Dennis. Ora controllava ogni sua mossa. La giornata iniziava con una corsetta mattutina e la sera era obbligatorio lavare i piatti e pulire la cucina. La resistenza di Dennis era inarrestabile. «Chi diavolo sei? Lascia in pace me e la mamma». Era una delle prime sere in cui Sean aveva cercato di impedirgli di uscire la sera. «Oh, è così! Sei fuori controllo!» «Mi hanno detto di stare a casa, quindi dovrei stare a casa». Sean disse «Stai a casa e stai fuori dai piedi. I ragazzi stanno aspettando. Togliti di mezzo». Disse Dennis e fissò gli occhi del patrigno. Non si sarebbe allontanato dalla porta. Allora Dennis cercò di spingerlo via. Ma Sean lo afferrò rapidamente per un braccio e lo fece girare in modo che un secondo dopo fosse a terra, urlando di dolore. Poi lo condusse senza problemi nella stanza, lo lasciò lì e chiuse la porta a chiave. Lara lo guardò con orrore. Ebbe il tempo di pentirsi di aver attirato un estraneo nell'educazione di suo figlio, per di più così crudele. «Ok, Sean, non era questo l'accordo. Ti stai comportando in modo molto crudele con Dennis. Senti, è un adolescente, è fragile, può osservare rancore. E tu stai esagerando?» Era indignata. «Esattamente. È un adolescente e potrebbe facilmente imboccare una strada sbagliata. A giudicare dalla sua abitudine di sparire di notte, è già sul punto di farlo. Pensateci. Cosa è meglio? Io che lo raduno a casa e lo rinchiudo? O la polizia che lo raduna e lo rinchiude in una cella? È un esito probabile nel suo caso?» Rispose. Lara pensò per un momento. Non aveva più interferito con la virilità di Sean. I risultati non tardarono ad arrivare. Dopo un paio di settimane, Dennis cominciò a dedicare più tempo allo studio. Gli amici notturni diminuirono e lui divenne più loquace. Ma la rivalità con Sean rimase. Beh, ora è tutto passato. Ora Dennis cerca di essere un padre di famiglia modello. Quella sera, a tavola, fece una domanda atipica ai suoi genitori. «Avete promesso di raccontarmi un giorno come vi siete conosciuti e perché ci sono stati tanti eventi confusi tra di voi? Forse è arrivato il momento?» Chiese. Sean e Lara si guardarono. E poi giunsero contemporaneamente alla conclusione che, in linea di principio, non gli dispiaceva raccontare il loro passato. Sean, diplomato in una scuola tecnica finanziaria, era stato incredibilmente fortunato nella sua carriera. Aveva ottenuto un buon posto al municipio al primo tentativo. Ha preso il posto di un uomo che, durante i suoi 44 anni di lavoro nell'amministrazione, si era stancato del suo comportamento di principio. Il suo aspetto fresco, la sua leggerezza, la sua socievolezza e la sua apertura alla cooperazione contrastavano con Sean. Ma la gioia degli altri dipendenti e della folla di uomini d'affari disposti a pagare per avere interessi di lobby non durò a lungo. Ben presto si è scoperto che il giovane finanziere Sean non ha meno principi del vecchio. «Andrà lontano, bastardo!» gli hanno sibilato alle spalle. «Promettente! Onesto nel servire il suo stato natale!» Altri lo ammiravano. Questa attenzione universale ebbe un effetto ambiguo sul modesto Sean occhialuto. Sguardi dal basso verso l'alto, sicofanti, adulatori e altri orpelli del potere aiutarono Sean a crescere ai suoi stessi occhi. Cambio rapidamente la sua andatura e anche il suo sguardo divenne diverso. Si vedeva come un funzionario piuttosto venerabile in futuro e in questo momento vedeva intorno a sé un gran numero di opportunità per realizzare le proprie ambizioni. Ma tutto cambiò in un giorno. E quel giorno era del tutto ordinario. Sean aveva l'abitudine di arrivare al lavoro prima di tutti gli altri e non dipendeva dal tempo o dal periodo dell'anno. I colleghi erano a volte sorpresi, a volte indignati dal fatto che il giovane si fassesse passare per un santo rifiutando di prendere l'auto a ziendale e l'autista personale che gli spettavano in virtù della sua posizione. «Per me è importante stare in mezzo alla gente se devo lavorare per loro. Un funzionario può avere successo solo se non è scollegato dalla realtà», disse, facendo lampeggiare gli occhi e infastidendo i suoi colleghi. Quella mattina era incredibilmente fredda. Il ragazzo stava passando davanti a una delle prestigiose università della città, lanciando un'occhiata alle giovani studentesse. Una ragazza fragile, con una giacca corta e tacchi a spillo alti, camminava a fatica lungo la recinzione metallica del cortile dell'università. Con questo gesto fece spuntare un sorriso sul volto di Sean. La raggiunse rapidamente e tra loro nacque una conversazione. «Signorina, credo che lei abbia bisogno di un appoggio solido in questo momento. Altrimenti è così scivoloso che è abbastanza realistico cadere e farsi male», disse lui sorridendo timidamente. «Grazie, non mi dispiace. Ho davvero paura di camminare su un marsi a piede come questo», lei disse. «Lasci che l'aiuti ad arrivare dove deve andare, poi chiamerò rapidamente il servizio comunale e farò rapporto per un cattivo lavoro. Ti prometto ci cambieranno molto presto», disse Sean con orgoglio. «Grazie. È molto gentile da parte tua», disse la ragazza, guardandolo con aria curiosa. «Come influenzerà i servizi della città? Sei il figlio di un maggiore?», chiese lei. Lui ricambiò il sorriso ancora più ampio. «Mi chiamo Sean. Lavoro nell'amministrazione comunale come responsabile delle finanze. Sto andando al lavoro ora. Non uso volutamente l'auto aziendale per aiutare le belle ragazze come te a superare questo terribile ghiaccio», ha detto. «È curioso. Mi chiamo Lara. Studio qui. Di solito mio padre mi porta qui, ma oggi ha deciso di rimanere a casa», rispose la ragazza. «E la cosa finì lì. Si scoprì che, mentre chiacchieravano amabilmente, non si erano accorti di aver raggiunto i cancelli dell'università così in fretta. Sean non ci mise molto a chiedere il numero di telefono della ragazza. Lei lo guardava con una tale tenerezza che era già chiaro che tra loro stava nascendo qualcosa di profondo e imprevedibile. «Chiamami se non è troppo disturbo. Non ho amici in questa università. Mi piace la solitudine in generale», Lara dichiarò. «Non ti annoierai più perché ora hai me», disse Sean con sicurezza. In quel momento era del tutto sicuro di stare flirtando con una bella ragazza. Ma la mattina dopo si rese conto che quel viso timido e quegli occhi curiosi non avrebbero abbandonato i suoi pensieri. Sean la chiamò quello stesso giorno e le disse senza fiatare quanto aveva aspettato quel momento. Le passeggiate serali insieme divennero un'estensione naturale della loro amicizia. La cosa continuò per diverse settimane, finché Sean non si convinse definitivamente di essersi innamorato di questa ragazza. Ma non esitò. Per impressionare la sua amata e sottolineare i suoi sentimenti, organizzò una cena romantica nel suo appartamento. Quale fu la sua sorpresa quando Lara rifiutò di venire a trovarlo? Una risposta del genere lo ha lasciato di stucco, perché da quando è diventato un funzionario, nessuna bellezza osa rifiutarlo in sua compagnia. E alcune addirittura si ostinano a dire che Sean a volte gli dedica il proprio tempo libero. «Mi dispiace, ho dei principi», disse Lara. La parola «principi» risuonava profondamente nell'animo dell'ambizioso funzionario, che a sua volta la ripeteva più volte al giorno e si godeva gli sguardi confusi degli altri. «Capisco», disse Sean. «Pensavo ingenuamente che i nostri sentimenti fossero al di sopra di tutti i principi». Lui disse. «Forse è così, ma non voglio che siamo governati dai nostri impulsi. Una relazione del genere è destinata a fallire. Per evitare questo scenario, vorrei che tu ascoltassi i miei principi e li rispettassi», disse Lara. Solo ora, dopo tonnellate di parole intelligenti, Sean si rese conto di non aver chiesto alla ragazza quali fossero esattamente i suoi principi. Non lo aveva costretto a interrogarla. «Il principio della castità è importante per me. Quindi, prima di sposarci, la storia d'amore tra noi può essere solo una storia di strada. E dopo il matrimonio, ti apparterrò nel corpo e nella mente. E questo sarà il mio sacro dovere», disse Lara, colpendo così il ragazzo innamorato fin nel profondo dell'anima. Il ragazzo accettò i principi della donna con ammirazione. Si rese conto che c'era un solo modo per possedere la sua amatà, sposarla secondo tutti i canoni. E questa prospettiva lo intrigava molto. «Vorrei poter restare con te più a lungo, ma non posso. Mio padre verrà presto a prendermi. È molto severo. Se ci vede insieme, sarà un male per te», disse Lara al loro prossimo appuntamento fuori dall'università. «No, non posso continuare così. Hai 18 anni. Hai il diritto di decidere da sola come vivere la tua vita. Lasciami parlare con lui». Sean ha detto. «No, non dovresti farlo. Non servirà a niente». «Ok, ciao». «Sta arrivando», disse Lara e si affrettò a liberarsi dall'abbraccio del suo amante. Ma era troppo tardi. Il severo uomo d'affari, Mark, ebbe il tempo di notare un uomo magro e occhialuto accanto alla figlia. «Rimani dove sei», gridò frettolosamente. Una macchina era parceghiata. «Och, stavo proprio aspettando che tu facessi un discorso da uomo a uomo», disse Sean, lanciando una sfida provocatoria. «Cosa vuoi da mia figlia?» «E poi ci, diavolo sei», chiese il severo uomo d'affari, tirando la figlia a sé per un braccio. «Io amo Lara e vogliamo stare insieme. Abbiamo bisogno della sua benedizione. Prometto di rendere sua figlia la più felice possibile», disse Sean. «Non se ne parla. Non c'è nessuno a cui darei mia figlia per niente». «Lara, sali in macchina. E tu? Non voglio più vederti vicino a lei», disse Mark. «Otterrò quello che voglio. Dimostrerò i miei sentimenti», le gridò dietro. Mark gli lanciò un'ultima occhiata di disprezzo, poi sputò alle spalle e accompagnò la figlia a casa. Quella sera, Lara mandò un messaggio a Sean per dirgli che suo padre aveva ormai il controllo completo dei suoi movimenti e che per un po' di tempo non avrebbero potuto incontrarsi. Questo fu un vero colpo per Sean. «Va tutto bene, abbi pazienza tesoro. Presto finirò alcune cose e io e te risolveremo questo problema. Gli rispose. E sì, Mark mantenne la parola. Ora portava la figlia all'università e la andava a prendere lui stesso. E per il resto del tempo lei rimaneva a casa senza il diritto di lasciare l'appartamento senza il permesso del padre. Le promesse di Sean non furono vane. Si presentò tre giorni dopo, venendo direttamente a casa di Mark mentre lui era fuori. «Fai le valigie, andiamo», disse attraverso le sbarre metalliche del pianerottolo. «Cosa stai facendo? Ci ucciderà? Ci troverà comunque?» «Ho paura di lui». Lara lo negò. «Io sono con te e combatterò fino all'ultimo uomo. Sei il mio ultimo e unico amore», disse Sean. «Dovremmo fare i bagagli. Aspetta, ma dove stiamo andando? Dovremmo almeno lasciare un biglietto per papà. Lascia perdere la roba, te ne compreremo di nuova. Il biglietto lo decidi tu. Scrivi solo che d'ora in poi vivrai con me. Quella sera riuscimmo finalmente a organizzare la tanto attesa cena romantica a lume di candela. Sul tavolo c'era una bottiglia di spumante. Per i giovani c'era una musica soft. Non c'era nessun altro al mondo oltre a loro. Durante la cena, lui la fece volteggiare in una danza bianca e si sentì eccitato per l'imminente notte d'amore. Ma l'occhialuto si sbagliava. Le sue illusioni si sciolsero nel momento in cui suonò il campanello. E poi, senza aspettare la risposta, gli ospiti inattesi cominciarono a battere i pugni sulla porta. Sean dovette aprire. Due omaccioni in giacca nera lo spinsero fuori dalla soglia. Uno di loro prese Lara per un braccio e la condusse verso l'uscita. Sulla soglia, all'esterno della porta, Mark osservava sorridendo. Sean tentò di allontanare Lara, ma fu tutto inutile. Ne valse la pena che uno dei ragazzi lo spintonasse leggermente, facendolo volare all'altro capo del corridoio. Non incasinarci di nuovo la vita, ragazzo, o sarà peggio, disse Mark, e se ne andò con i suoi scagnozzi. Sean, ti voglio bene. Se papà non lo accetta, mi ammazzo, gridò Lara tornando a guardare l'ascensore. Ti amo, tesoro. Aspettami e credi in me. Staremo insieme di sicuro, gridò Sean. In vano il padre geloso contava che l'occhialuto uomo sarebbe rimasto nel passato. Un atto così audace non fece altro che irritare il giovane ufficiale. Ora voleva davvero ricongiungersi con la sua amata. La corrispondenza notturna, le chiamate furtive e le infinite dichiarazioni d'amore non si fermarono tra loro. Voglio stare tra le tue braccia. Mi manchi così tanto. Lara scriveva tristemente. Mi manca anche l'odore dei tuoi capelli. E le tue labbra? Sean ha risposto. Adesso voglio andare sul davanzale della finestra. Ho già fatto una corda con un lenzuolo per potermi arrampicare fino a terra. E poi verrò da te. Ha scritto. Non rischiare la vita, tesoro. È pericoloso. Troveremo un altro modo per coccolarci e baciarci. Aspettami. Scrisse. E non mentiva. Un paio d'ore dopo squillò il telefono di Lara. Aveva paura di rispondere davanti al padre. Così uscì sul balcone. Lui le disse qualcosa. Dopodiché lei si tirò su e tornò in cucina. Sì, sì, vieni, ti sto aspettando. Disse con vosse allegrà. Mark guardò la figlia con aria sospetosa, ma non le cise nulla. Mezz'ora dopo Lara corse alla porta, riferendosi al fatto che le avevano portato l'ordine dal negozio online. Quale fu la sua sorpresa quando Mark vide sua figlia sulla soglia dell'appartamento, che baciava il corriere, dimenticandosi di tutto il mondo. Lara, hai perso la vergogna! Gridò. E quando Lara si girò, Mark vide il volto dell'uomo occhialuto e testardo, e si arrabbiò all'istante. Sean era contento di essere riuscito a mettere in atto il suo piano. Quindi salutò con la mano il padre arrabbiato, e si affrettò verso l'ascensore. Ma Mark lo raggiunse in due passi larghi, e lo prese per la collottola, ordinando alla figlia di chiudere la porta e di aspettarlo dentro. E la ami davvero così tanto? Chiese Mark, una volta che furono nel cortile della casa. Sì, le voglio bene. E farei qualsiasi cosa per lei. So che non ci sarà mai un'altra ragazza come lei nella mia vita. Disse Sean con sicurezza. Allora ascoltami, Romeo. Mark sorrise. Dovrai dimostrare il tuo amore con i fatti. Sei pronto o vuoi scappare? Qualsiasi cosa. Se mi dici di saltare dal tetto lo farò. Dichiarò Sean. Sei così stupido. Perché ho bisogno che tu salti? Ho un lavoro più importante da fare. C'è una gara d'appalto per un nuovo centro per bambini. La tua azienda se ne occupa. Se la mia azienda vinse, hai la mia benedizione per sposare mia figlia. Disse Mark. Se Han fu colto di sorpresa. Mi dispiace. Ma non è giusto. In realtà, il vincitore della gara d'appalto è determinato da una commissione speciale. Esaminano gli standard di costruzione, i preventivi e altri dettagli importanti. La sua azienda soddisfa tutti i parametri. Chiese Sean. Non mi parli della commissione e delle sue regole. So tutto questo anche senza di te. Quando le ho imparate, tu eri ancora sotto banco. Se non puoi influenzare la gara d'appalto, dillo e basta. Disse Mark. Beh, no. Posso provarci. Farò tutto il possibile per assicurarmi che tu ottenga questo accordo. Disse il tizio. Dai, dai, fammi vedere cosa sai fare. Valuteremo il tuo potenziale alla fine. Bene, incoraggiò Mark. Sean promise generosamente di fare pressione per lui. Poi fecero un accordo e tornarono a casa. Sean passò tutto il viaggio di ritorno a chiedersi come risolvere questo problema. Ha certamente una certa autorità in municipio. Ma non è ancora un vero e proprio funzionario venerabile per infrangere la legge. Per non essere smentito, decise di agire già il giorno successivo. La signora Helga è entrata subito nel suo radar. Si tratta della persona a capo della commissione d'appalto, oltre al fatto che era una donna importante e aveva un atteggiamento favorevole nei confronti di Sean. Non osando parlare direttamente con il capo, Sean decise di percorrere la via più scorretta. Inoltre, facendo pressione per gli interessi di qualcun altro, avrebbe potuto essere sospettato. Quella sera notò che la signora Helga era ancora seduta nel suo ufficio e non aveva intenzione di tornare a casa. Bussò silenziosamente alla porta dello studio, poi entrò gentilmente per vederla. Vedo che non si sente in colpa, signora Helga. Ho pensato di prendermi cura di lei. Che ne dice di un caffè? Disse Sean, mostrando il suo affascinante sorriso, e mise sul tavolo una tazza di caffè caldo con cioccolata. Perché questi convenevoli inopportuni? Sei in qualche guaio? Si chiese Helga. No. Se avessi un problema, lo risolverei da solo. Non sono il tipo di uomo che si nasconde dietro la gonna di una donna. Questa è la preoccupazione di un uomo sincero per te. Lui ha detto. Allora consideralo risolto. Prenderò il caffè più tardi, ma per ora sei libera se non c'è nulla di urgente. Disse Helga, e tornò a occuparsi della pila di carte sulla scrivania. Sean dovette lasciare l'ufficio della funzionaria, che si rivelò un osso duro, ma non si allontanò dalla linea scelta. Ora caffè e cioccolata si alternavano a frutta, gelati, mazzi di fiori nei momenti più inaspettati. E in seguito le visite di Sean all'ufficio del funzionario divennero un appuntamento fisso. A poco a poco, la fortezza di una donna orgogliosa cominciò a sottomettersi alle attenzioni di un giovane uomo. Credi che stia alzata fino a tardi perché amo così tanto il lavoro. Prorupe una volta in tutta francezza. Sean la guardò con attenzione, manifestando la volonte di ascoltare. Perché a casa è noioso. Sei ancora giovane. Non sei sposata. Non conosci questi problemi. E quando si è sposati da vent'anni con una persona, questa ha imparato a vivere la propria vita autonoma, senza chiedersi cosa ci sia nell'anima dell'altra metà, allora sempre un po' triste, disse Helga. Ma in questo caso l'approccio avrebbe dovuto essere più serio. Suggerisco di trasferirci da qualche parte in una buona struttura, e poi mi impegno ad accompagnarti a casa, suggerì Sean. All'inizio Helga era contraria, quando Sean insisteva di volta in volta con l'appuntamento. Ma un giorno cedette alle sue implorazioni, e lì, dallo champagne freddo della camera d'albergo a letto caldo, c'erano letteralmente pochi passi, che Sean superò senza problemi. Sei la mia unica valvola di sfogo nella vita. Gli sussurrò all'orecchio un mese dopo, sdraiato a letto dopo una serata tempestosa. Ma ora aveva fretta di tornare a casa. È come se non fossi mai stato nella tua vita. Sean fece una smorfia di dolore. Cosa vuoi di più? Vuoi che venga a vivere con te? O sei pronta ad accogliermi con mio marito e i miei tre figli ormai grandi? Helga sorrisse. Posso accoglierti. Sono responsabile delle mie parole. Se ci sono ostacoli, sono pronta a pagare con il mio sangue. Vedi quella cicatrice? Sean me l'ha mostrata. L'ho notata subito, comunque. Volevo chiederti come te la sei fatta. Helga lo chiese con interesse. È stato quando ero un adolescente. Mi innamorai di una ragazza che usciva via con un ragazzo adulto. Il ragazzo non sapeva della nostra relazione. Così lo sfidai. Decidemmo di combattere uno contro uno, ma lui violò l'etica del combattimento. Quando ero a un passo dalla vittoria, ha tirato fuori un coltello dalla tasca e mi ha accoltellato. Poi la ferita è stata ricucita in ospedale. Non l'ho denunciato alla polizia perché i cavalieri devono avere dignità. E la ragazza era mia. Quando ho aperto gli occhi, lei era seduta sulla testiera del mio letto e pregava Dio per la mia salute. I testimoni hanno detto che fin dai primi giorni non ha lasciato il letto. La vittoria era mia. Sean disse con orgoglio, ricordando la sua operazione all'appendice di tanto tempo fa. È vero, non c'era nessuna ragazza. E a capo del letto, la mamma e la nonna si sedevano a turno alla testiera. Ma questo è sufficiente per una leggenda romantica. Oh, povero bambino. Almeno lo abbiamo salvato in tempo. A giudicare dalla cicatrice la ferita era profonda, disse Helga. A proposito, grazie per avermelo ricordato. Forse non sarei sopravvissuto se non fosse stato per un passante. Si chiama Mark Wurstein. È lui che mi ha raccolto per strada stamattina e mi ha portato in ospedale, vivo per un pelo. Non avevo documenti, né un centesimo in tasca. Ha dato dei soldi ai medici e ha insistito perché mi salvassero la vita ad ogni costo. Gli sono molto grato. In seguito ho scoperto che è un uomo molto interessante. È nel settore delle costruzioni e di recente ha fatto domanda per uno dei nostri appalti. Potrebbe aiutarlo a vincere, chiese il tizio. Sean, puoi chiedermi tutto quello che vuoi, ma da me personalmente, non usando la mia posizione ufficiale. Questo è troppo. Conosci le regole. Non sei un estraneo in questo ufficio. Quindi mi dispiace, disse Helga. E questa fu la fine della loro dolce conversazione. Sean era arrabbiato con lei. Si era impegnato così tanto e alla fine non aveva funzionato. Per guadagnare tempo decise di prendere le distanze da Helga e in questo compito se la cavò egregiamente. Quando il giovane smise bruscamente di mostrare segni di attenzione e ciò durò per quasi tre settimane di seguito, l'autostima di una donna adulta sullo sfondo della crisi familiare andò a rotoli. Nella testa di Helga giravano pensieri ossessivi su come riportare l'attenzione del ragazzo su di sé. Sean se ne accorse subito, quando la sera lei stessa si presentò nel suo ufficio con due tazze di caffè, offrendosi di distrarlo dal lavoro. Ma Sean lasciò che l'indifferenza, e poi la forte roxia si arresse completamente. Ho capito, sei arrabbiato con il tuo benefattore. C.S.L.A. Sian a noi in silenzio. Va bene, fai come vuoi. Solo c'è questo deve rimanere tra noi. E spiegalo al tuo Warstein così non si deluderà più tardi. E sì, spero che conosca le regole. Disse Helga. Poi tirò fuori un pezzo di carta e ci scrisse sopra alcuni numeri. Digli questo. Di avere i soldi al massimo entro tre giorni. La gara d'appalto sarà chiusa a breve. Aggiunse. Sul foglio c'era scritto il numero 2 e 6-0 dietro. Sean capì che era pratica comune pagare una somma simbolica a un funzionario per aver vinto una gara d'appalto. Quello stesso giorno consegnò il biglietto a Mark. Questi ne fu piacevolmente sorpreso. Quindi puoi farlo quando vuoi. Non sarebbe male far diventare un uomo d'affari come quello un membro della tua famiglia. Ho capito. Avrai i soldi domani. La metà dopo l'annuncio dei risultati della gara d'appalto. Lo dica al suo capo insieme ai miei più sinceri ringraziamenti. Disse Mark. Ma Sean non aveva intenzione di andarsene. Posso uscire con Lara oggi? Chiese. Sì, puoi. Ma non oggi. Oggi non si sente bene. È meglio che non ti distragga finché il caso non sarà concluso. E poi potrete vivere insieme. Ha detto. Sean partì con la speranza di una vita felice insieme alla sua amata, che era già apparsa al suo orizzonte come una stella lontana. Nella prima mattinata di lavoro Elga era impegnata con le stesse offerte e documenti. Può usare il suo subordinato Robert, che è molto amico di Sean. Gli chiese di venire nel suo ufficio per sbrigare una commissione. Ma la risposta di Robert la stupisce. Mi dispiace. Mi occuperò della tua commissione nel pomeriggio. Ora devo aiutare a raccogliere i documenti dell'appalto di nostro suo cerosean. Ho sentito che sta vincendo la gara d'appalto, disse Robert. Elga si bloccò per un attimo. Ora le venne in mente tutto. Suozzerò. Hai detto. Sciese di nuovo a Robert. Beh, il nostro futuro fidanzato Sean è da tempo innamorato della figlia di questo Wurstein. Pensavo che la sua vittoria nella gara d'appalto fosse solo una coincidenza e non l'influenza del nostro Sean, disse Robert. Congedati, disse Elga. Poi riprese immediatamente le pratiche. In un attimo la vittoria dell'appalto passò in altre mani e Elga chiamò il numero di Sean. Allora, che succede al tuo Wurstein? Ha già cambiato idea sull'ordine. È pronto? Chiese. Non appena sentì la risposta, la porta dell'ufficio del suo capo si aprì e il suo interlocutore apparve con una valigia in mano. Andò direttamente alla sua scrivania. Aprì la valigia con il denaro e la richiuse rapidamente. Le condizioni sono cambiate. C'è qualcuno che sta facendo ostruzionismo. Ho bisogno dell'intera somma per risolvere la questione. E mi serve oggi, disse Elga. Sean unì i palmi delle mani e sollevò il petto, facendo segno che sarebbe stato fatto. L'uomo d'affari Mark conosceva bene le regole del grande gioco. Quando Sean disse che un altro milione era dovuto al suo capo proprio oggi, si affrettò a prendere la somma giusta. La sera mandò il suo autista a prendere Sean per portarlo in ufficio. Sean consegnò la seconda rata del denaro. Ora aspettava con impazienza che il potenziale suocero gli desse il via libera per fare almeno un'uscita insieme alla sua amata. A volte dava libero sfogo alla fantasia e immaginava come lei avrebbe camminato orgogliosamente accanto a lui e lui sarebbe stato orgoglioso di lei. A volte le sue fantasie si realizzavano nei suoi sogni notturni. Oggi non è successo, ma la mattina dopo Sean è stato svegliato dallo squillo del suo telefono. «Stronzo, hai deciso di fregarmi? Se non riesci a prendere una dannata decisione nel tuo ufficio, perché mi hai sorteggiato?» gridò Mark al telefono. «Qual è il problema? C'è qualcosa che non va?» chiese un Sean assonnato. «Questa gara d'appalto è stata vinta da una società completamente diversa. Dove sono i miei soldi?» gridò. «Sapevo che eri un brufolo senza valore, non un finanziere e un impiegato dell'ufficio del sindaco. Come mai? Ci deve essere un errore. Ho preso tutti gli accordi, controllerò e ti farò sapere». Sean lo promise e cominciò a raccogliere in fretta il numero di Elga. Ma dopo il primo squillo, la donna lasciò cadere la chiamata e non aprì affatto i messaggi di Sean. Già un'ora dopo, Sean si precipitò nel suo ufficio. Lei si sedette sulla sedia e lo guardò trionfante. «Buongiorno. Avresti potuto portare con te caffè e cioccolata. Non capisco perché l'altra azienda abbia vinto. Avevamo promesso. Avete anche preso i soldi?» disse Sean. «Sei tu che hai promesso, Sean. Per favore, non coinvolgere altri nei tuoi intrighi. E sono consapevole che mi hai portato a letto per questa gara e hai commesso un grosso errore», disse lei allargando le mani. Sean non poteva fare altro che scusarsi con lei, al che il capo affermò magnanimamente che lei non si era nemmeno offesa per lui. Ma c'era ancora un'ultima domanda, quella che temeva di più. «Allora forse è giusto che restituiamo il denaro a Wurstein?» disse Sean. «Quale denaro?» Elga sgranò gli occhi. «I due milioni che ti ho dato ieri. Cosa? È evidente che sei confuso. Io prendo soldi dai miei dipendenti solo sulla base di documenti ufficiali. Se non ci sono documenti, non ci sono soldi». Lei rispose. «Sian si rise conto di avere una grossa sorpresa». La predatrice Elga avrebbe tenuto il denaro per sé per un senso di vendetta nei suoi confronti. Ora avrebbe avuto una difficile conversazione con Mark stesso. Aveva già chiamato Sean due volte e aveva chiesto la restituzione del denaro entro due ore. Naturalmente, due ore non cambiavano nulla nelle sue prospettive e due ore dopo Sean Glee apparve davanti come un polo spenato. Ti ripagherò in qualche modo. Chiederò un prestito alla banca. Chiederò un prestito ad amici e conoscenti. È solo che i tuoi soldi sono finiti nelle mani di bestie predatrici. Io stesso ne sono stato vittima. Bene, allora vada avanti. Ha esattamente altre due ore per chiedere un prestito e farsi prestare due milioni. Altrimenti il video del trasferimento di denaro finirà nelle mani delle forze dell'ordine. Verrà condannato per corruzione aggravata. Quindi la scelta è vostra, disse Mark nel suo ufficio. Naturalmente il giovane funzionario non poteva raccogliere una tale somma in due ore o in un giorno. Aveva già capito che la sua carriera e la sua vita futura erano già al capolinea. C'era solo un'ultima speranza. Era Lara. La sera andò a casa di Mark. Intendeva chiedere un ritardo nella restituzione del denaro e allo stesso tempo vedere la sua amata. Ma Sean trovò uno spettacolo inaspettato. La porta dell'appartamento di Wurstein era aperta. Dall'interno provenivano forti rumori. Se han aprì la porta ed entrò. Le voci ora si sentivano chiaramente. Non sarà facile per te, bastardo. Mi farò giustizia. A te non resterà nulla. Una voce femminile era indignata. Signora Elvira, perché è così crudele? Questo è suo marito, con cui ha vissuto per quasi vent'anni. Non le dispiace rovinare questi ricordi con una divisione dei beni. Le ha detto chiaramente che si è disamorato di lei perché si è innamorato di me. Quindi mantieni la tua dignità. Questa era la voce di Lara. Sean non capì nulla, ma continuò ad ascoltare. Va bene, ragazze. Sono stufo di vedervi litigare. Elvira. Lara ha ragione. Devi smettere di venire a casa nostra con le tue pretese. Vi farò contattare dai miei avvocati. Non lascerò te e i miei figli nell'indigenza. Mi dia solo la possibilità di vivere per me stessa. Era la voce di Mark. Sean entrò con calma nel soggiorno e vide la sua amata Lara seduta sulle ginocchia di Mark e una bella donna di mezza età seduta di fronte a loro, che discuteva con loro. Prima che Sean potesse aprire bocca, intervenne lo stesso Mark. Ecco che arriva l'idiota. Allora, hai portato i soldi? Chiese. Lara. Che succede? Che cosa significa? Sean era confuso. Lara si limitò a sorridere. Poi strofinò affettuosamente la testa calva di Mark e disse Tieni duro, Sean. Stai per avere una piccola rivelazione. Infatti, quest'uomo non è mio padre, ma mio marito. E ti ho messo in contatto con me per poter vincere le offerte. Ho sentito che ci hai già deluso su questo. Ora sei in grossi guai. Mi dispiace per te. Come? Ti amo con tutto il cuore. Come puoi fare questo per degli ordini e delle offerte? O dimmi che non è vero. Era indignato. Non gridare a tutta la casa. Cosa volevate quando avete creato una tale burocrazia? La gente ha bisogno di un modo per farsi strada nel mondo del lavoro. Ma non importa. E i soldi? O andrai in prigione? Chiese Mark. Elvira, nel frattempo, rideva a squarciagola. Sì, caro Mark, certo. Sapevo che eri un diavolo. Ma mettere la tua giovane moglie sotto un funzionario per un po' di soldi hai superato te stesso. Non andavo a letto con lui. Lo stavo solo adescando. Interviene Lara. Sì, certamente cambia tutto. Ti fa diventare un angelo. Cosa ci faccio qui? Me ne vado da qui. Comincio a essere stufa di tutto quello che vedo qui. Disse Elvira e si diresse verso l'uscita. Signora Elvira, ho sentito che ha trovato lavoro all'hotel Settimo Cielo come cameriera? Oh, congratulazioni. È un ottimo inizio di carriera. Era destino che un giorno cominciasse a fare soldi da sola. E che tu possa avere successo. Lara lanciò un'ultima battuta. E Sean era ancora lì in piedi senza sapere cosa fare. Cosa vuoi ragazzo? Stai aspettando che chiami la polizia e mi denunci per corruzione o c'è qualcos'altro che vuoi dirmi? Chiese Mark. Fai quello che vuoi. Lara. Dobbiamo parlare. Disse Sean. Basta così. Quante volte ti è stato detto a chiare lettere che sei stato imbrogliato. Basta così. Non ho tempo per questo. Io e il gattino dobbiamo andare al ristorante. E che tutto vada bene nella tua vita. Disse la donna scendendo dalle ginocchia di Mark e ritirandosi nella stanza sul retro. Nonostante lo shock e la confusione, Sean riuscì a parlare con Mark e a pregarlo di restituirli i soldi per un mese. Mentre tornava a casa, considerò varie opzioni, comprese alcune che non erano del tutto legali. Trovò persino la forza di chiamare uno dei suoi amici. Mi serve un sicario. Disse Sean in tutta serietà. Sean, sei stupido. Non puoi fare battute del genere al telefono. Potrebbero essere scambiate per intenzioni serie e persino per un colpo di scena. All'improvviso. Sono serissimo. Devo ottenere dei soldi da uno dei funzionari. O andrò io stesso in prigione. Mi disse. Sean, avevi intenzione di cedere un prestito. Vero. Mi sembra che sia l'unica via d'uscita. Ora Sean iniziò a cercare l'esecutore del suo piano. Doveva essere qualcuno in grado di mettere alle strette Helga e prendere i suoi soldi. Sean non pensò al fatto che in entrambi i casi la fine della strada sarebbe stata la prigione. Doveva essere così. L'uomo fu trovato rapidamente. L'incontro avvenne in uno dei bar. Di fronte a Sean sedeva un uomo con la barba e uno sguardo molto duro. Allora. Di quanti soldi stiamo parlando? Chiese il suo vis-à-vis. Sean mostrò il numero due sulle dita. Il mio onorario di solito è la metà. È d'accordo? Il 30% e tutti sono contenti. Disse Sean. 40. Disse l'uomo barbuto. 40-40. Scrivi indirizzi, nomi, password e foto dei clienti. Sean fece come il suo nuovo amico gli aveva chiesto. Alla fine della conversazione fecero un accordo. L'uomo se ne andò e Sean rimase al bar a sfogare il suo cuore ferito. Non gli importava del denaro. Ora era il cuore a fargli più male. Immaginava di amare questa Lara, ma non credeva di amarla abbastanza da provare dolore. Tutta la notte trascorse bevendo con strane compagnie, ballando fino alla follia e con un'ebbrezza raccapricciante. Al mattino, quando i vacanzieri cominciarono a disperdersi, Sean pensò a come tornare a casa. Ma non dovette agitarsi a lungo. Le autorità erano già venute a prenderlo. Il resto della storia seguì un copione standard. Lo accusarono di aver organizzato un attentato. Croste davanti al viso, mani dietro la schiena e manette. Sean stesso era comodamente sdraiato a faccia in giù sul pavimento, respirando a stento, sotto la pressione del corpo del poliziotto, e non aveva nemmeno intenzione di opporre resistenza. In seguito ha saputo che il presunto colpevole si era rivelato un falso. Dopo l'incontro con Sean, lasciò il bar e andò direttamente alla stazione di polizia, dove fornì tutti i nomi e le password. E la storia della mazzetta di Mark Sean ha dovuto raccontarla a se stesso durante le indagini. Il processo si svolse un paio di settimane dopo. Sean fu condannato per due articoli e gli fu inflitta una pena dignitosa. E quando arrivò il momento di dire l'ultima parola del criminale, Sean disse È tutto il mio amore. Non avrò mai un'altra ragazza così nella mia vita. Lara nel frattempo tirò un sospiro di sollievo per il fatto che finalmente non c'era più bisogno di giocare all'amore con questo romantico funzionario. Si stava preparando per l'imminente vacanza congiunta sulle isole con il marito. Dopo un po' di tempo, Sean dovette abituarsi a una vita completamente nuova. In precedenza, conosceva la vita carceraria solo dai film e dalle dizzerie. In fondo, aveva Ghia accettato il fatto che qui sarebbe stato spezzato. E negli anni a venire sarebbe uscito da qui completamente diverso. E nessuno avrebbe voluto quella persona diversa. Ma non era poi così male. Per qualche motivo, a tutti i detenuti piaceva il ragazzo magro con gli occhiali. Un intellettuale D'ora in poi, il suo soprannome sarà l'intellettuale. Chiunque osi offendere il nostro intellettuale dovrà vedersela con me personalmente. Dichiarò una sera. Sio Zack, il vecchio carceriere. Sio Zack era temuto ma rispettato. I guardiani lo consultavano e aveva sempre molte visite. In effetti, lo zio Zack viveva nella prigione come se fosse casa sua. All'inizio, Sean si sentiva a disagio per il fatto che lo zio Zack lo osservava da vicino, ma non voleva avere contatti diretti con lui. A poco a poco, Sean cominciò a temerlo. Ma un giorno, all'improvviso, lo zio Zack lo invitò a cena. Aveva un tavolo elegante. Lo zio Zack chiese agli altri detenuti di lasciarli soli e iniziò una conversazione. Immagino che tu non avessi intenzione di venire qui, chiese, dando a Sean un pezzo di pollo fritto. Chi lo fa? Ho lottato per l'amore, innanzitutto, disse Sean. A quel punto lo zio Zack ebbe un momento di realizzazione. I suoi occhi profondi e spenti si illuminarono e un sorriso apparve sul suo volto corrucciato. Ora so perché ti ho rispettato fin dal primo giorno, quindi sei un romantico. Romeo, eh? Buon per te. E Giulietta, ti ha fatto visita? Ha almeno promesso di aspettarti, lo ha chiesto lo zio Zack. Con me non è così. Se dico le cose come stanno, riderai di me. Ti sembro un idiota che ride del destino delle persone? Se qualcuno ride dei tuoi sentimenti, del tuo amore, del tuo destino e della tua vita, puoi dargli un pugno su quel sorriso e poi dire che lo zio Zack l'ha autorizzato, disse il vecchio. Sean smise di imbarazzarsi davanti a lui e raccontò brevemente tutta la sua storia con Lara. Il vecchio ascoltò in silenzio e poi disse, ti sei trovato di fronte a una scelta difficile, dignità e amore. Se fossi in te, seglierei la dignità. Avrai altri milioni di persone come lei nella tua vita. La dignità vale molto. Ma se possibile, cerca di dimenticare quella ragazza corrotta. Il consiglio dello zio Zack. E che dire del suo presunto marito che non disdegna di usarla per i suoi scopi egoistici. Perché una ragazza così giovane, bella e raffinata si lascia trattare così da un uomo cinico? Dov'è lo spazio per la dignità della mia amata? Chiese Sean. Sei un pessimo intellettuale, sai come trovare argomenti delicati per la conversazione. Zio Colia sorrisse, rivelando i suoi denti inghialiti. Ti ho schelto dalla folla per un motivo. Hai una curiosità per la vita, anche se ti va male. E per quanto riguarda i tuoi clienti, sono comprensibili. Pensano di essere umani, ma vivono come animali. Disse lo zio Zack. Gli animali non fanno così, disse Sean. Dipende da chi consideriamo animali. Secondo me, gli animali sono le creature più senza pretese di Dio. Sono senza pretese perché non c'è un'indagine sui veri sentimenti e sulla condizione umana. Spero di avervi spiegato in modo abbastanza chiaro cose così complicate. Zio Zack sorrise ironicamente, notando che Sean continuava a non capire nulla di quello che diceva. Ma le sue frasi floride non facevano sentire Sean meglio. Dopo quella conversazione, si sentiva come se si stesse lacerando maggiormente le ferite. Lo zio Zack se ne accorse. Qualche giorno dopo, i due ebbero un'altra conversazione ad alto livello. Bisogna smettere di valutare le persone e classificarle come buone o cattive. Le persone sono e basta. E questa è la fine. Si differenziano solo per il modo in cui vivono. Alcuni vivono come animali, altri come esseri umani e altri ancora come Dio. E badate, non sto parlando di ricchezza, ma ci sono molte persone che vivono come animali. Volete che vi racconti una storia e che cerchiate di imparare da essa? Suggerì lo zio Zack. Sean annui con riluttanza. Zio Zack si avvicinò a lui e iniziò a sussurrare qualcosa che non capì. Se ti sembra di aver avuto a che fare con persone peggiori, pensa sempre al nostro ex capo. Ora non è più in vita. Quando era vivo e lavorava qui, non ha perso tempo. Ha inventato un'attività. Ha sposato una donna con una figlia che stava crescendo. Poi ha aiutato quella ragazza a diventare una vera prostituta. Poi stringeva accordi con i nostri uomini e affidava la ragazza a loro. Ma a un certo punto la ragazza si stufò e decise di scappare da un patrigno e una madre del genere. Il patrigno non ebbe problemi a trovarla e a rinchiuderla in casa. Così ora lei gli doveva un favore. Per guadagnare di più, raccolse i soldi dai ragazzi e organizzò una festa specifica. Ha dato la figliastra ai ragazzi peggiori. Gli altri lo scoprirono solo al mattino, quando la ragazza era in punto di morte. Capii subito che quel capo era una bestia d'uomo. Parlai rapidamente con le persone importanti e feci la mia proposta. Loro approvarono. La sera il capo andò all'altro mondo per affrontare il giudizio di Dio. Consegnai la ragazza ai medici. La rimisero in piedi. Il resto della sua vita mi è sconosciuto. Perché vi sto raccontando tutto questo? Perché le persone come i vostri clienti saranno punite. Non da voi, ma da qualcun altro. Dimenticatevi di loro. E pensate a come vivere la vostra vita. Il consiglio dello zio Zack. Da quel giorno Sean iniziò a cercare un nuovo significato per la sua vita. Lo trovò. Il fatto di esistere era ora il significato della sua vita. Decise fermamente di scontare la sua pena. Di uscire e ricominciare. Senza arrendersi e senza degradarsi. È vero. Lo rattristava il fatto che questa Lara ossessiva non gli uscisse dalla testa. Pensava che fosse tutto temporaneo. Ma non si rendeva conto che nulla era permanente. Lara, metti giù il telefono. Il bambino sta piangendo. Chi è che ti manda messaggi in continuazione? Chiese Mark con irritazione in un giorno feriale. Nessuno. Le amiche. Stiamo organizzando una vacanza insieme per il fine settimana. Rispose Lara. Mise il telefono in tasca e andò a consolare Dennis. Mentre giocherellava con il bambino, Carl le rimase in mente. Si erano conosciuti un anno fa. Lara era in ritardo di gravidanza. Quel pomeriggio uscì dal salone di bellezza e aspettò Mark. Lui era in ritardo, come al solito. Quando Lara lo chiamò, si rese conto che non era nemmeno uscito dall'ufficio. Non ti importa della tua famiglia? Era indignata. Non stai diventando un po' presuntuoso con i tuoi capricci? Forse è il caso che tu vada in macchina da solo o che impari a chiamare un taxi. Non ti ho assunto come autista. Se vuoi essere guidato devi aspettare. Mark ha detto. Vaffanculo, resta in ufficio e non tornare a casa. Tornerò a casa da sola in qualche modo. Lei borbottò e riattaccò il telefono. In quel momento si sentì come una donna profondamente infelice che era stata vittimizzata da un uomo del genere e per cosa. Dopo la storia con Sean, Mark era diventato geloso di lei e l'aveva costretta ad abbandonare l'università. Ora deve stare a casa tutto il giorno e aspettare che il suo amato marito trovi il tempo di portarla a Sena al ristorante una volta ogni due mesi. Sì, tutto qui. Questo è l'intero programma della sua vita. Signorina, è malata? La sua pace fu interrotta da una voce improvvisa che si sentiva vicino. Lara si girò e vide un uomo attraente con occhi molto gentili accanto a lei. No, sto bene. Devo avere pazienza per altri tre mesi, disse e si diresse verso la panchina. Mi rendo conto che sta passando un momento difficile. Mi permetta di darle un passaggio fino a destinazione. In generale penso che sia un sacrilegio per una donna in questa posizione essere lasciata senza aiuto, disse l'uomo e indicò con la mano la sua auto. Lara non si oppose. Durante il tragitto, il proprietario dagli occhi gentili e dai modi educati si presentò come Carla. Chiacchierarono amabilmente e quando Lara arrivò a casa, si accorse che il suo umore era improvvisamente cambiato. Gli aveva chiesto il numero di telefono per poter chiacchierare con lui di tanto in tanto su argomenti che la distrevano. Lui non si oppose. Il loro incontro successivo avvenne un mese dopo la nascita di Dennis. Questa volta entrambi conoscevano lo scopo del loro incontro. Fiori a brazio, ciampagne freddo in una stanza d'albergo e un letto caldo. Un sapore che Lara aveva dimenticato da tempo nella sua vita insieme a Mark, che la raggiungeva finanziariamente. È così. Non posso vivere senza di te, dichiarò Carl dopo il secondo incontro. Lascia il tuo vecchio. Prenderò il bambino come mio. Quel Mark ti ha rovinato la vita e non ti darà nulla in cambio. No, ho paura di lui. Ha le braccia lunghe. Oggi sono tre settimane che Mark è malato e giace a casa, e Lara non è mai riuscita a uscire di casa per incontrare il suo amico del cuore. Ora Carl le manda ogni volta messaggi dolcemente minacciosi. In questo momento vorrei presentarmi a casa tua e dire a Mark tutta la verità su di noi. Prendere te e il bambino tra le mie braccia e portarti via da tutto questo. Oppure un altro messaggio. Smettila di ingannare un uomo più vecchio, dandogli la speranza di invecchiare insieme. Dovete lasciarvi andare per darvi l'opportunità di trovare la vostra vera vita. Tu, Heidi, ha trovato la tua vita vera e questo ciaccherone ti sta solo ostacolando. Non ho bisogno di problemi in questo momento. Non ho bisogno di mosse improvvise. Denise crescerà, troverò un lavoro e mi occuperò di Mark da sola. Staremo insieme. Devi solo avere fede. Lara risponde. Ma non c'era speranza di un rapido ricongiungimento per nessuno dei due. Con Mark ancora malato a casa, Lara riceve improvvisamente una chiamata sul telefono. Devi presentarti alla clinica pediatrica. C'è uno screening di massa per le malattie stagionali. Quando hai bisogno di un appuntamento con il medico? Chiede una voce femminile. Lara prese un appuntamento e si recò alla clinica il giorno successivo. L'infermiera, con la quale era diventata amica da tempo, la raggiunse e le disse, semmai può lasciare qui il bambino e andare da sola. Lara non si rese conto di nulla finché Carl non la chiamò e le spiegò che aveva escogitato il trucco e corrotto l'infermiera per farla uscire di casa. Naturalmente erano state pagate anche le due ore che l'infermiera aveva dedicato alla cura del bambino. Lara accettò di recarsi all'albergo più vicino. Negli ultimi giorni la paura del marito era cresciuta sempre di più. La sua voce interiore le disseva che avrebbe dovuto frenare i suoi impulsi romantissi verso Carl. Ma il cuore non può comandare. Così Lara si rassicurava. Ma Carl non poteva venire in albergo, si era chiamato da solo. Lara, mi dispiace, non posso andarmene. Il mio collega Michael sta venendo a prenderti in questo momento. Ti porterà nel mio ufficio, poi ti riporterà alla clinica e a casa. La prego, faccia la cosa più onorevole e venga. Nonostante la paura agghiacciante, l'attrazione per Carl era più forte. Lara aspettò Michael e mezz'ora dopo poteva vedere Carl nel corridoio del suo ufficio. Mi sei mancato. Abbiamo bisogno di un po' di privacy, subito. Ho preparato un posto, le disse, baciandole avidamente il collo e spingendola in uno dei cubicoli vuoti dell'ufficio. In un paio di minuti l'ufficio vuoto divenne la dimora di una passione bruciante. Carl non perse l'occasione di realizzare le sue fantasie più profonde. Alimentata dalla paura della sua stessa insolenza, Lara era maleabile come una bambola. Devo andare. Mark potrebbe insospettirsi. Disse più tardi, riuscendo a malapena a reggersi in piedi per le vertigini. È ancora presto. Rispose Carl prima di tuffarsi a capofitto in una seconda ondata di passione. In seguito, i due uscirono di nuovo. Lui rimase nel suo ufficio. Michael la stava accompagnando alla clinica per prendere il suo bambino. Ti ho ghi ha visto da qualche parte. Michael sbirsiò di nascosto dallo specchietto retrovisore. Sono una ragazza visibile, avresti potuto vedermi ovunque. Lei rispose e si voltò verso il finestrino. Michael ricordò facilmente che quella ragazza era stata notata accanto a Mark come la sua nuova amante, che con un leggero movimento del dito aveva spostato la sua prima moglie, la figlia del defunto generale Elvira, ed era salita sul piedistallo della vita senza fare una piega. Mentre Michael la guidava, nella sua testa nacque un'idea geniale per dare una lezione a quella gente senza scrupoli e fare allo stesso tempo un po' di soldi. Lara se ne rese conto quando la sera stessa ricevette in ufficio il filmato delle avventure della giornata con Carl. Quanto è disposta a pagare per tenere il filmato fuori dalle mani di suo marito? Il mittente ha scritto. Naturalmente Lara non ebbe modo di protestare o contrattare la cifra. E così iniziò una nuova vita, molto peggiore di quella precedente. Oggi Lara ha ricevuto un altro messaggio che chiedeva un'altra rata di denaro per il silenzio. Alla fine si è arrabbiata. Compone il numero del suo amante Carl. Carl, avevi promesso che ti saresti occupato tu stesso di questo Michael. Perché continua a mandarmi messaggi e a chiedere soldi? Non riesco a trovarlo. Si è licenziato subito dal nostro ufficio e ha interrotto i contatti con i colleghi. Lo sto cercando dove vive, ma non c'è quasi mai. Abbia pazienza per un po', mi occuperò di lui. Si è fatta sentire ancora una volta. Scrisse a Michael chiedendogli di aspettare tre giorni. In quel lasso di tempo sperava che Carl potesse trovarlo e porre fine al ricatto. Ma Michael non fu facile. Ti do dodici ore. O trovi i soldi o Wurstein ti sorprenderà entro stasera. Se ti lascia vivo sei fortunato, mi ha risposto. La famiglia aveva ancora molti soldi, per fortuna. Wurstein era dedito alla sua causa. Non appena Sean fu arrestato per corruzione, fu sostituito da un nuovo uomo nell'ufficio del sindaco, più collaborativo. Con lui, Wurstein pote fare amicizia direttamente senza incastrare la giovane moglie. Ora si aggiudicava regolarmente gli appalti più favorevoli. Anche Elga si occupava di cioccolato. A volte si riuniva la sera nei migliori ristoranti della città e ricordava il giovane Sean con gli occhiali. Senti, che bello che compagni così cinici, col tempo, finiscano in prigione. Altrimenti sarebbe stato un disastro. Ci avrebbe dato una reputazione di corruzione e concussione. Ovviamente poi la gente avrebbe perso il rispetto per noi. E così la giustizia fu ristabilita nell'inseguimento. Elga filosofeggiava. Wurstein godeva di questa amicizia favorevole. Sapeva che la sua giovane moglie aveva bisogno solo di denaro e che non si sarebbe mai arrugginito dietro di lei. Ma Lara non ne sapeva nulla e non aveva intenzione di entrare nel merito di queste questioni. Aprì la cassaforte di casa, calcolò la somma di denaro di cui aveva bisogno e si precipitò al bancomat per versarla sulla sua carta. Ma all'improvviso arrivò un messaggio che annunciava un cambiamento di programma. Non metterli sulla carta. Credo che qualcuno mi stia alle costole e so anche chi ha organizzato tutto. Scrivi l'indirizzo e portamelo in contanti. Michael scrisse. E poi ha inviato l'indirizzo. In un parco abbandonato di periferia, Lara dovette passare quasi quattro ore ad aspettare un uomo anziano con una borsa della spesa in mano. Era il segno di riconoscimento dell'agente Michael. In dodici ore. Non si era un solo vecchio all'horizonte prevedibile. Michael aveva anche smesso di rispondere alle telefonate. Lara non sapeva più ce pesci pigliare. Fince non risevette una telefonata da Carl. Michael era morto. Lo annunciò. Come? Spero che tu non abbia niente a che fare con questo. No, certo che no. È morto in un incidente stradale. A quanto pare aveva fretta di incontrarti oggi. Che riposi in pace. Un mal di testa in meno per te e per me. Anche se era mio amico. Disse Carl. Che ne sarà del video ora? È su una chiavetta. E la chiavetta potrebbe cadere nelle mani di chiunque. Cosa succederà ora? Pensa Carl. Lara sembrava determinata. Come fai a saperlo? Mi ha spaventato con una foto della chiavetta in una busta con sopra scritto l'indirizzo dell'ufficio del mio Mark. Gli avrebbe mandato una chiavetta in una busta. Carl, devi prendere quella chiavetta e distruggerla. Ora ho ancora più paura. Lara era nel panico. Carl non riuscì a trovare nulla per confortarla. Al contrario, i suoi colleghi si precipitarono a far visita alla vedova di Michael, Helen, mentre si recavano al funerale. Nella testa di Carl stava nascendo un'idea su come recuperare la chiavetta. Era un'idea rischiosa. A che punto sono gli uomini innamorati per essere eroici agli occhi delle loro amate? Helen, mi dispiace che non ci siamo incontrati e seduti insieme come amici quando Michael era vivo. Non sapevo che il mio defunto amico avesse una moglie così meravigliosa, disse Carl, e prese la mano della vedova inconsolabile dopo che il corpo fu consegnato per la sepoltura. La veglia si svolse nella cerchia dei parenti e tutti tornarono a casa. Permettetemi di essere con voi oggi e di condividere la vostra perdita, le disse e le baciò delicatamente la mano. Mi ha parlato di te. Mi aveva promesso di riunire presto tutti i suoi amici più cari in una radura e di incontrare le vostre famiglie. Peccato che non sia vissuto per vedere quei giorni, disse Helen, e lasciò cadere una lacrima. Carl si sedette accanto a lei e l'abbracciò. La donna, affranta dal dolore, non riusciva ancora a credere alla nuova realtà in cui si trovava. Il suo mondo interiore si rifiutava di credere che la morte e la veglia degli ultimi due giorni stessero accadendo davvero. In momenti come questo, le persone tendono ad autolesionarsi, a perdere la testa o a uscire dalla realtà per cercare un contatto con se stesse. E con questa donna, era come se il diavolo avesse deciso di fare un paio di balli oggi. A un certo punto, Helen smise di vedere l'amico del suo defunto marito come un uomo strano. Il suo abbraccio, le sue dolci carezze sulla schiena cominciarono a tranquillizzarla e a riportarla alla realtà. Contemporaneamente, stava perdendo il senso del controllo. Quando si svegliò, si ritrovò a letto con Carl ed era furiosa. Devi andartene subito e dimenticare la tua strada, disse con fermezza. Non è successo niente di male, non abbatterti. Lui disse, no, è mostruoso. Sei stata cattiva con me. Mio marito non ha amici infidi come te. Vattene, non farti più vedere da me, gridò con rabbia spingendo Carl fuori dalla porta. Egli si incamminò verso casa in preda allo sconcerto più totale. Com'era possibile che i sonniferi mescolati all'acqua non avessero avuto effetto su Helen? E la donna, che era una strega, aveva tratto le sue conclusioni. Carl decise che non si sarebbe dato pace finché non avesse trovato la chiavetta smarrita. Neanche due giorni dopo, Carl bussò alla porta di Helen. Vedendo il mazzo di fiori, Helen cercò con vehemenza di sbattere la porta. Carl riuscì a trattenerla. Aspetta, vuoi seppellirti viva dopo tuo marito? Non farlo. Lascia che ti stia vicino. Disse e si infilò nel corridoio. Poco dopo, seduta al tavolo della cucina, trovò la forza di parlargli con toni più pacati. Non riesco a perdonarmi di aver tradito mio marito. E tu me lo ricordi? Disse Helen senza alzare gli occhi su di lui. Rispetto la memoria del nostro Michael, naturalmente. Ma lascia che si diffonda l'idea che fosse solo un uomo comune a cui non dispiaceva andare a sinistra quando ne aveva l'occasione. Disse Carl con dolcezza. Non cerchi di demonizzare mio marito ai miei occhi in un modo così vile. Sono stata sposata con lui per 14 anni e so esattamente che tipo di uomo era Michael. E tu non sai da dove vieni né cosa vuoi da me. Helen fissò Carl. Non avevo intenzioni malevole. Sono venuta per sostenerti. Carl si giustificò. Se vuoi essere di supporto, fai quello che fanno le persone normali e stai lontano dal mio letto, dichiarò Helen. Carl cambiò improvvisamente argomento di conversazione. Hai un orologio molto bello. Immagino sia un regalo di Michael, chiese Carl. Sì, me l'ha regalato lo scorso compleanno. Era troppo costoso per lui. Ma non ha badato a spese per me. Ecco quanto mi amava. Credo che la sua condizione richieda cure e attenzioni. Mi permetta di essere al suo fianco. Sono disposto a fare da padre a sua figlia e a prendermi cura di lei finché non sarà maggiorenne. Disse Carl. E non un muscolo del suo viso vacillò. Non ci volle molto perché Helen rifiutasse la sua offerta. Dopo un po' cominciò a notare che le piaceva la preoccupazione ossessiva di Carl. Anche l'amico di Helen aggiunse benzina al fuoco. Non sei abituata a vivere da sola. Dovresti smettere di rifiutare Carl e cercare di costruire una relazione con lui. Soprattutto se è un uomo libero e tu sei di fatto una donna libera. L'ha detto ogni volta. Cosa dirà la gente? Come farò a guardare negli occhi i genitori di Michael? Non appena suo marito è andato nella tomba, lei ha trovato un amante. E un suo amico. È una cosa sproporzionata. Ma la sua amica era un'amica normalissima. Abituata a una vita in cui si ostinava a fare del bene a tutti. Dovrebbe almeno pensare alla bambina. Per una bambina, le cure di un padre sono molto importanti. Se non impara a costruire relazioni con i volti maschili fin dall'infanzia, sarà un problema per lei in futuro. Disse l'amica. Dimostrando così la sua capacità di operare sui destini delle persone non peggio dei moderni psicologi dei social network. Alla fine, Helen decise di non rifiutare più le insistenti advances di Carl. Ma sapeva bene quanto questo ragazzo fosse determinato. E quanto fosse in cammino verso la sua meta. La volta successiva che si incontrarono, lui si inginocchiò davanti a lei. Le porse un anello d'oro in una costosa scatola. E reclamò il suo cuore per intero. Helen non osò dirgli di sì. Decise di aspettare che fossero trascorsi almeno 40 giorni dalla morte del marito. Ma non si oppose all'offerta di Carl di trasferirsi da lei. Un cambiamento così repentino nella sua vita fu molto duro per la figlia Sandra. Ma Carl cercò di guadagnarsi la sua fiducia. E ben presto ci riuscì. La ragazza cominciò a parlargli volentieri, a condividere i loro successi scolastici. In uno di questi giorni, Helen usò la sua solita scatola di documenti. Di solito teneva questa scatola sul ripiano superiore dell'armadio della sua camera da letto. Questa volta trovò la scatola su uno dei ripiani inferiori. Notò anche che la pila di documenti era completamente capovolta. Helen non ci pensò più di tanto, finché l'incidente successivo non la sorprese. Questa volta fu Sandra a lamentarsi più forte, perché il suo orsacchiotto preferito era morto. Sentendo le grida della bambina, Helen corse in camera sua e vide che l'orsacchiotto era stato prima crocifisso e poi ricucito con punti storti e obliqui. La spiegazione di un fenomeno così violento non trovava pace nella mente di Helen. Quando lo chiese a Carl, lui fece spallucce e disse, o forse Sandra stava giocando lei stessa con l'orsacchiotto. Non importa i capricci di una bambina. Sta attraversando un periodo di stress, proprio come te. Personalmente non vedo nulla di terribile in quello che è successo. Carl disse, e tranquillizzò Helen. Ma il terzo incidente fece girare la testa a Helen. Di solito lasciava i suoi costosi orologi in una speciale scatola di legno davanti allo specchio della camera da letto. Questa volta non c'erano. Dopo un'accurata ricerca, li trovò sul ripiano della credenza della cucina. Come erano finiti lì? Era una domanda aperta. Su suggerimento della stessa amica, Elena portò l'orologio in un laboratorio per verificarne l'autenticità. Dopo aver ascoltato la risposta dell'orologiaio, ha capito esattamente perché Carl si era stabilito nel suo appartamento. Non si tratta di un orologio di marca e nemmeno di una replica. Sono solo analoghi economici di questo mercato. Mi dispiace, ma il loro valore è di 20 dollari al massimo. Disse l'orologiaio. Helen si precipitò a casa per raccontare tutto a Carl. Ma la risposta di lui la stupì ancora di più. La cosa che mi offende di più è il fatto che tu dia la colpa a me. Ricordi che la prima volta che ci siamo incontrati volevi chiedermi di quell'orologio. Solo ora mi rendo conto che stavi già progettando uno scambio economico. O mi restituisci l'orologio autentico o ti denuncio alla polizia. Disse Helen infuriata. Può denunciarmi alla polizia. È ancora più facile così. In realtà, volevo dirle che io e Michael abbiamo comprato questo orologio insieme quando siamo andati in viaggio d'affari. Io l'ho visto di persona. Lui l'ha comprato in un normale mercato. E poi ti ho detto che tu stesso l'hai scambiato per una marca per difetto. E ti sei emozionato molto. Così il tuo maritino ha deciso di non deluderti. Disse Carl. Questa fu la fine di un altro conflitto. Un paio di giorni dopo, Helen era a casa da sola quando suonò il campanello. Era abituata alle visite inaspettate di varie persone che volevano esprimerle le loro condoglianze. Ma questa volta c'era un visitatore atipico. Sulla soglia di casa sua si trovava una giovane ragazza dall'aspetto spettacolare. Mi permetta di entrare, onorevole Helen. Disse, e senza aspettare l'invito, si trovò all'interno dell'appartamento. Mi chiamo Lara. Tu non mi conosci, ma io ti conosco bene. Disse la bella ragazza. Credo che tu conoscessi il mio Michael. A quanto pare, aveva tanti amici meravigliosi. Hai ragione, ma in parte non eravamo amici. Eravamo amanti. Dichiarò Lara. E non un muscolo del suo viso tremò. Non può essere vero. Mi ha amato per tutta la vita. Sta cercando di calunniare mio marito. Sta a te decidere in quali illusioni vuoi vivere. Ma non sto parlando di voi. Sono venuta a chiederle alcuni effetti personali di Michael. Mi creda. Lo amavo. E lo amo quanto lei. Mi lasci avere qualcosa per ricordarlo. Disse Lara dando un'occhiata all'appartamento. Ma Helen non era così semplice. Un attimo dopo Helen la afferrò per i capelli e la trascinò verso l'uscita. Non permetterò a nessun altro di profanare la memoria di mio marito. Se eri la sua amante e non avevi nessuno dei suoi effetti personali, significa che in realtà eri il suo zerbino. Se lui non ti ha dotato di nulla in vita, allora non meriti nulla da Michael. Disse spingendo Lara fuori dal suo appartamento. Lara entrò nell'ascensore e cercò di calmare il respiro. Allo stesso tempo riuscì a comporre il numero di telefono di Carl. Senti, non avrei dovuto darti la colpa. Non è una donna. È una strega. Non sono riuscito a distrarla per un secondo. Avrei potuto fare il giro del suo appartamento. Non riesci ancora a trovare quella chiavetta. Vai a letto con lei. Avresti già potuto cercare in ogni angolo di questo minuscolo appartamento. Lara era indignata. Tesoro, per favore, non insultare Helen. È solo una donna forte e indipendente, a differenza di altre persone. E per favore smetti di interferire con il mio compito. Visto che sono coinvolta, lo porterò a termine da sola. Carl era indignato. Ma quando metti a rischio la mia vita, Lara era indignata. Non appena la troverò, correrò subito da te con la chiavetta in mano. Nel frattempo ti prego di non disturbare me o Helen con il tuo problema. Carl rispose con una fredezza inusuale e riaganziò il telefono. Lara era completamente confusa su ciò che stava accadendo. Solo che non aveva intenzione di riconoscere il fatto che questo Carl aveva giocato così a fondo che ora il suo gioco era diventato la sua vera vita. Questo è ciò che stava dicendo a Helen e a sua figlia stasera. Non so come facevo a vivere senza di te. Pensavo che la vita di uno scapolo fosse piena di esperienze. Ma quanto mi sbagliavo. Ora che mi hai dato l'opportunità di occuparmi teneramente di te, mi sento un uomo vero e realizzato. Credimi, non mi sono mai sentito così felice con nessun'altra donna, confessò a Helen. E lei vide la sincerità nei suoi occhi. E di quella sfortunata chiavetta nella testa di Carl non rimase nulla. Da giorni ormai aveva smesso di cercare quel piccolo dispositivo nel grande appartamento. Era felice. Questo gli bastava. Riguardo a Lara sperava che soffrisse un po' e che passasse a suo marito Mark. Ad aggiungere nuovo colore alla sua vita c'era un ragazzo, Ben. Il nipote di Helen che era venuto a trovare la zia dall'estero per le vacanze. Un tempo Helen stessa faceva da babysitter a Ben. Tra zia e nipote c'era sempre stato un rapporto caloroso e riverente. Ora il nipote adulto veniva a sostenere la zia in giorni così difficili della sua vita. Ben trovò subito un linguaggio comune con Carl e fu felice per Sandra che aveva trovato la sua felicità. Approfittando dell'occasione favorevole, Carl fece una proposta. Helen, suggerisco di andare dai miei genitori in paese per un paio di giorni e di presentare loro Sandra. Le piaceranno. Possiamo riposare mentre Ben è qui in vacanza. La sua mozione fu approvata all'unanimità. Il giorno dopo, di buon'ora, la nuova cellula sociale partì per un lungo viaggio. A Ben fu concesso di portare nell'appartamento un caro amico d'infanzia o una ragazza per il periodo di assenza dei proprietari, ma senza fanatismo, al che il giovane si limitò a sorridere e ad annuire. Sapeva come avrebbe trascorso i suoi giorni di solitudine nell'appartamento di qualcun altro. Dopo una deliziosa colazione, Ben si diresse verso la piccola stanza di lavoro del defunto Michael. Era interessato a quell'ufficio fin da bambino. In particolare, era attratto dallo scaffale dei libri. Un ragazzo dalla mente curiosa e dal gusto per i buoni libri aveva a lungo sognato di sfogliare gli oggetti immateriali del suo parente. Ma inaspettatamente trovò una chiavetta all'interno di uno dei libri e quando la inserì nel suo portatile e ne vide il contenuto, non ne fu molto sorpreso. Apprezzava solo il potenziale di Carl come brillante amante. La sera era uscito con un amico d'infanzia che abitava accanto a Helen. Quando l'amico è arrivato, Ben ha accennato con non curanza alla chiavetta e ai contenuti sconvenienti che vi erano stati registrati. L'amico era curioso. E Ben non gli ha negato il piacere di guardare un video per adulti. Poi si sono fatti una risata amichevole e sembrava che tutta la storia fosse passata. Ma di solito le persone non si rendono conto che le loro azioni più semplici possono avere un effetto sconvolgente sulla vita degli altri. In questo caso è quello che è successo con il simpatico divertimento di due ragazzi, mentre da qualche parte, in altre sfaccettature della realtà, la vita familiare di Lara e Mark si stava incrinando. Come hai potuto tradirmi? E con tanta vergogna. Quella sera, a casa, Mark era furioso. Di cosa stai parlando? Che cosa sta succedendo? Lara cercò di mantenere una faccia disinvolta. Lo stai ancora chiedendo? Perché i miei amici mi mandano il link di questo imbarazzo e ridono di me? Disse Mark, mostrando sul suo telefono l'episodio scabroso avvenuto nell'ufficio di Carl. Era inutile negarlo. I volti erano chiaramente visibili. Quello che Carl non sapeva in quel momento era che i suoi colleghi si erano accorti da tempo della sua abitudine di trascinare il figo che gli piaceva in un cubicolo vuoto dell'ufficio e di organizzare lì tutte le sfumature della passione, per deriderlo quando possibile e per frenarlo quando necessario. Una volta Michael e altri due colleghi dell'ufficio avevano installato lì una telecamera di buona qualità e ne ammiravano periodicamente le riprese. Nessuno di loro si era reso conto, all'epoca, che un'altra registrazione avrebbe potuto avere conseguenze di tale portata. Oggi erano passati due giorni da quando Lara era stata dimessa dal centro traumatologico all'appartamento della sua amica. I lividi, le contusioni e le abrasioni sul suo corpo sono ghiavisibilmente guariti. La sua amica Cristina che si è presa cura di Dennis per tutto questo tempo, l'ha rassicurata. Non è niente di grave. Sii felice di esserti liberata di un mostro del genere. Lascialo in pace, lei disse. Grazie per Dennis. Non so come farò a rimetterlo in piedi da sola. Cosa c'è da pensare? Migliorerà molto. Troverai un lavoro e vivrai per vedere il tuo primo stipendio. Puoi stare con me per un po'. Si risolverà a poco a poco, disse Cristina. Ma chi mi assumerà senza istruzione, senza esperienza? Non riesco a immaginare cosa significhi lavorare e guadagnare soldi. Per me il denaro è sempre stato una cosa scontata. Per me il denaro è qualcosa che sta nel mio comodino. E non finisce mai. Lara sorrise tra sé e sé. In generale, dovresti trovare un buon uomo che sia un padre per il tuo Dennis e un sostegno affidabile per te. Consigliò Cristina. Quel consiglio ferì Lara ancora di più. Grazie, amico. Ma non mi occupo di matrimoni. Ma questa è una favola. È improbabile che gli uomini del nostro tempo siano in grado di assumersi la responsabilità di un figlio altrui. Ho sentito dire che anche i loro sono facilmente abbandonati e non si tengono in contatto. Quindi questa idea è decisamente da escludere, disse Lara. Ma la signora del fato aveva i suoi piani per questa ragazza. Due settimane dopo, Lara era più preoccupata per un'altra domanda. Cristina, come definiresti una ragazza a cui è stato rifiutato persino un posto di cassiera in un supermercato? Forse non avevo il viso adatto. Forse dovevo nascere come un topo grigio per sopravvivere in qualche modo nella società delle persone più comuni? Si chiese Lara. Beh, tesoro. Ho dimenticato di dirti che nel mondo della gente comune tutto non si misura dall'aspetto e dal denaro. È importante che tu sappia mostrare il tuo carattere. Quindi la prossima volta ci vestiremo in modo più semplice per il colloquio e lasceremo le tue marche per un appuntamento con il potenziale uomo della tua nuova vita. Il consiglio di Cristina. Ma i suoi consigli non aiutarono Lara. Trascorse un mese intero in vari colloqui, ma ovunque la guardavano con sospetto. Era improbabile che i datori di lavoro si aspettassero di vedere una ragazza modello dai modi raffinati e dal volto spaventato come commessa o corriere. Questo avrebbe potuto essere preso come un complimento se non fosse che gli ultimi soldi in tasca stavano finendo. Lara non osava chiedere un prestito all'amica. Uno di questi giorni Lara vide un annuncio per una cameriera in un hotel che offriva uno stipendio molto dignitoso. Abbandonati tutti i pregiudizi della sua vita precedente, si preparò per il colloquio e, quando si trovò nell'ufficio del direttore, capisce quell'annunzio non l'aveva colta per caso. Ebbene, che incontro straordinario! La signora Elvira, prima moglie di Wurstein, le sorrise. Suo marito appartiene solo a lei ora. Ho bisogno di un lavoro, disse Lara con fermezza. Cosa è successo a Lara? Mark si è rivelato un cavaliere poco onorevole. Sì, ho sentito che ti ha cacciata in disgrazia. Sapevo che prima o poi sarebbe successo. Così ho tenuto da parte un posto di cameriera per te. Puoi iniziare oggi stesso. Ti addestrerò da zero, perché non sei brava in niente. Penso che inizierai in una suite al quarto piano con vista sul mare. Spero che riconosca questa stanza, disse Elvira e condusse la sua dipendente alla suite. Lara ebbe quasi un attacco di risate isteriche quando si ricordò di questa stanza. Erano passati tre anni da quando aveva incontrato per la prima volta il suo nobile cavaliere Mark. Lui l'aveva corteggiata in modo romantico e commovente per tre mesi interi. E quando aveva conquistato il suo minimo favore, l'aveva invitata in questo hotel. Il loro appuntamento romantico era stato fissato proprio in questa stanza e poi erano anche riusciti ad essere in camera. Solo che tutto è stato rovinato da Elvira, che ha rintracciato il marito e ha fatto irruzione nella stanza. Ha colto la coppia di innamorati in una posizione inequivocabile. A quel punto Lara ha dato prova di carattere e ha dichiarato immediatamente che Mark ora la ama e che può fare le valigie. Il nobile cavaliere Mark confermò le sue parole. La mia principessa ha ragione. La tua età è passata. Tornerò a casa tardi. E non ci sarà nemmeno una traccia di te quando tornerò. Non spaventarmi con i bambini. Pagherò abbastanza per il loro mantenimento. Lo disse allora. In quel momento Lara si rese conto che erano completamente idilliaci. E solo che Elvira stava interferendo con la loro felicità. Il giorno dopo Mark annunciò che Elvira e i bambini si erano trasferiti dai genitori di lei. E Lara dovette fare la sua modesta valigia e trasferirsi da lui. Fu così che iniziò la storia della loro conoscenza. Non appena Lara iniziò il suo discorso di pentimento, squillò il telefono. Elvira si fece da parte per rispondere. Lara stava origliando. «Cosa vuol dire morto? Cosa gli è successo? L'abbiamo visto solo stamattina», disse con toni alti. Poi chiuse rapidamente la conversazione e tornò nella stanza. «Congratulazioni, principessa. Hai rovinato il tuo cavaliere. Mi hanno appena informato che Mark è morto per un attacco di cuore. La sua morte è sulla vostra coscienza, e io devo arrivare a casa mia in tempo per poter finalmente pulire dopo di voi», disse e lasciò frettolosamente la stanza. Lara non provò un briciolo di dolore per la morte del suo benefattore. Per quanto strano potesse sembrare, le piaceva il suo lavoro di cameriera. Ma nel giro di una settimana seppe dalle altre ragazze che Elvira aveva lasciato l'albergo. Dopo la morte del marito, ereditò tutta la sua fortuna. «Dicono che ce n'è così tanta che potresti passare il resto della tua vita senza lavorare», sussurravano le ragazze dell'albergo. «Ma lei era brava, era arrivata da noi non qualificata, ma lavorava sodo. È salita rapidamente a direttore generale, e ora ha lasciato la sua carriera per niente». Questo è quello che hanno detto le altre ragazze. Essendo libero per la prima volta dopo anni, Sean voleva urlare di gioia. Non sapeva dove sarebbe andato o cosa avrebbe fatto dopo. Ma il suo cuore gli diceva che c'era un futuro luminoso e una vita umana normale davanti a lui. All'inizio non è stato facile per lui. A volte doveva dormire per strada, a volte su una panchina alla stazione degli autobus. Ma non aveva intenzione di abbandonare la retta via. Ha perseverato anche nella ricerca di un lavoro. Quando la gente sentiva che un uomo era stato recentemente rilasciato dal carcere, nascondeva gli occhi e prometteva gentilmente di richiamare. Non gli chiedevano il numero di telefono e lui non lo chiedeva, perché non aveva nemmeno un cellulare. In uno di questi giorni la guardia della stazione si impietosì e iniziò una conversazione tra loro. Sean raccontò tutta la sua storia. La guardia lo compatì e gli promise di presentargli un uomo buono. E non lo deluse. Il giorno dopo incontrò l'uomo buono. «Ho bisogno di un giardiniere. Offro due tariffe. Una nel mio albergo, l'altra a casa mia. Puoi dormire dove vuoi. In albergo o a casa mia. In entrambi ci sono alloggi speciali per il personale. Non siete obbligati a pagare. Ma se ti dimostri un lavoratore responsabile, posso ricompensarti in tutti i modi possibili». Questo è ciò che dice un brav'uomo in poche parole. Sean era perfettamente in grado di svolgere le mansioni di giardiniere nella casa di campagna. Ma quando l'autista lo portò all'hotel, ebbe una sorpresa che gli fece battere di nuovo il cuore, come aveva fatto tanti anni prima. La donna camminava lungo il corridoio dell'hotel con un'andatura fiera, suscitando ammirazione per il suo portamento regale. Solo in quel periodo i suoi occhi erano cambiati. Prima erano giocosi e astuti, ora erano saggi e calmi. «Lara!» la chiamò. Lei si girò e quasi cadde per lo shock. Ma era passato così tanto tempo da allora che la giovane sciocca ebbe il tempo di mettere ordine nella sua mente. Ebbe anche il tempo di essere emozionata nel vederli. «Sean, mi dispiace, se puoi. Ho fatto molte cose stupide, ma credo di averne pagato il prezzo. Avevo intenzione di trovarti un giorno per chiederti scusa», disse lei. Lui la guardò negli occhi affini, come prima, perdendo la testa. Non gli importava più se questa volta lei stesse dicendo la verità o meno. Non riuscirono subito a iniziare a comunicare con calma, perché troppe esperienze di vita e troppe impressioni si erano accumulate nel corso degli anni. Ma ognuno di loro trovò la forza di superare il vecchio dolore, di andare incontro all'altro. «Perché sei così preoccupato? Non ti ho mai visto sorridere sinceramente negli ultimi anni», disse Sean un giorno, quando si incontrarono nell'appartamento di qualcun altro e stavano per lasciarsi. «Dennis sta invecchiando, non mi ascolta, non riesco a gestire la sua educazione. Ho paura che, se le cose continuano ad andare così, possa diventare un abusatore come suo padre. È sincera. E forse questo è un motivo per far entrare un uomo nella tua vita», chiese in modo criptico. «Non mi dispiace. Sono solo preoccupata per te. Ti ricorderà il tuo arcinemico», disse Lara. «Ho perdonato la mia nemesi molto tempo fa, perché non è più in vita. Ora la cosa più importante nella mia vita è non perdermi di nuovo. Per evitare che ciò accada, sono disposta a trovare la forza di ricucire il rapporto con mio figlio. Anche con suo figlio», disse Sean. Lara passò ancora qualche mese a pensarci. Quando i rapporti con il figlio adulto si inasprirono definitivamente, accettò che Sean venisse a casa loro di tanto in tanto per visitare e parlare con il figlio. Denise non aveva intenzione di farsi influenzare da un estraneo, e a Sean dava fastidio che il ragazzo crescesse in quel modo. In realtà, si trattava del risentimento che Dennis nutriva nei confronti del padre, di cui aveva parlato per anni prima di sposarsi. «Questa è stata più o meno la storia d'amore tra me e mia madre», disse Sean, concludendo il suo racconto. Il coniuge si avvicinò a lui e gli sussurrò all'orecchio. «Hai omesso alcune parti di proposito?», chiese lei. «No, ho detto le cose come stavano. Quello che non è successo, non è successo», disse Sean ad alta voce. Lara provò gratitudine e tenerezza nei confronti di Sean per aver deliberatamente omesso molti dettagli della sua storia, come la relazione con Carl e il video compromettente. Anche l'insolenza di Lara nei confronti di Elvira e altri dettagli simili erano stati omessi. Affidandosi unicamente all'improvvisazione di Sean, è stato possibile dipingere l'immagine di una coppia follemente innamorata di fronte ai bambini. Va notato che ha cercato di non menzionare il passato della moglie durante la loro vita insieme. Lei gli rispose allo stesso modo. Si sono accettati in silenzio e i bambini non hanno più avuto domande.